Io sono per eccellenza un trequartista, amo giocare comunque all'attacco, il mio ruolo preferito potrebbe essere anche centrale, ma non ho nessun problema a giocare a destra o a sinistra, per cui sono nelle mani della scelta dell'allenatore. Spero che sia in assoluto un punto di partenza, che sia l'inizio di un lungo percorso, il Milan mi ha dato questa opportunità di dimostrare quello che valgo, di dimostrare le mie capacità e io sono qui per dare il massimo, per dare tutto e far sì che questo sia l'inizio di un lungo percorso. Sono molto orgoglioso di investire un ruolo in campo in cui lui stesso ha giocato, credo che sia un ottimo allenatore, ho avuto già qualche possibilità di allenarmi con lui ed è fantastico come eserciti la sua tecnica, come sia tutto basato con l'esercizio, con il pallone e credo di poter imparare veramente molto da questo grande allenatore, che è stato anche un grandissimo giocatore, per cui per me è una grande occasione, ho un grande rispetto per lui, sia come grande giocatore che come grande allenatore. Quando il Milan ha dimostrato interesse nei miei confronti ed è stato detto che avevano già il Ballotelli, bene ora oltre al Ballotelli italiano avranno anche il Ballotelli marocchino, ma comunque non ho nessun problema con Ballotelli, anzi è una persona molto carina, ci siamo già incontrati, abbiamo già scherzato insieme negli spogliatoi, ho giocato contro di lui in Inghilterra, per il resto approfondirò la conoscenza con lui e l'amicizia con lui, per il resto è tutto inventato. Sì, è vero che il Milan ha dimostrato una grande fiducia in me perché mi ha inserito nella lista dei giocatori per la Champions League, quindi un'ulteriore opportunità per me, vedremo nella partita contro l'Atletico Madrid, sarà una partita difficile perché l'Atletico Madrid è molto forte, ma nel calcio tutto può succedere, per cui ci sono due incontri, vedremo come riusciremo in questi due incontri e io spero di poter dimostrare all'allenatore nelle partite già di campionato quanto io possa valere e quale può essere il mio contributo anche per quella partita di Champions League.